Video 32 parte 16 Come ho dipinto questa foresta al tramonto? Io continuo a dipingere i cespugli sotto gli alberi. I cespugli con brillante colore verde. Aggiungo colore giallo e bianco alla miscela. Dipingo i riflessi della luce solare sui cespugli. Il verde brillante crea un contrasto in un ambiente buio. Spero che vi piaccia questa immagine, grazie per la visione, buona fortuna per la tua arte. Grazie per la visione!